Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa ventisettesima puntata del podcast di Marcosbox. Cominciamo la settimana parlando di Firefox. Vi ricordate del giorno nero di Firefox di qualche mese fa, quando tutte le estensioni del browser hanno smesso di funzionare a causa di un certificato di sicurezza scaduto? Bene, a seguito di quel funesto evento è stata aperta un'indagine interna per capire cosa non abbia funzionato all'interno dell'infrastruttura di Firefox e adesso arrivano le prime conclusioni. Da quel che è emerso è che il team sapeva e era a conoscenza che il certificato era in scadenza e stava scadendo, ma pensava erroneamente che Firefox ignorasse la data di scadenza. Il motivo di questo malinteso è che in un precedente incidente il team aveva disabilitato il controllo del certificato finale e questo ha causato della confusione sullo stato del controllo intermedio del certificato. Il team che si occupa del controllo qualità non includeva test per la scadenza del certificato, i test erano generalizzati su come si comporta il browser e quant'altro e quindi il problema non è stato rilevato. Morale della favola, la lezione imparata dal team di Firefox è che c'è bisogno di una migliore comunicazione e documentazione di queste parti del sistema e queste informazioni devono essere ricondotte al team di controllo della qualità per assicurarsi che in futuro non si verificano più simili eventi. All'interno del post trovate anche la spiegazione del perché il team di Firefox ha preferito utilizzare la funzionalità studi per rilasciare una correzione istantanea a questo problema anziché rilasciare una minore inglese che poi andava a correggere il tutto. Davvero molto interessante questo post perché fa luce, vi fa capire un po' come sono i meccanismi che portano al rilascio di un software complesso come Firefox e vi fa capire che non è tutto semplice come si può pensare dall'esterno. Passiamo adesso a Manjaro. Questa settimana tre notizie da parte di Manjaro. Tre notizie. Una, diciamo così, poco importante. La prima riguarda il fatto che Manjaro ha deciso di utilizzare F-Pacman come tool per la gestione di Flatpak e Snap. Sapete bene, se avete seguito le precedenti puntate o avete letto il blog di Marcosbox, che a partire dalla prossima versione stabile di Manjaro ci sarà il supporto out of the box al formato Snap e anche il supporto al formato Flatpak. Quindi possibilità di installare applicazioni da Snapcraft e da Flatab e quant'altro, i vari store. Il team di sviluppo di Manjaro all'inizio, in prima battuta, aveva deciso di utilizzare GNOME Software per le versioni XFSE e GNOME e KDE Discover per la versione KDE. Adesso ci ha ripensato, ha deciso di utilizzare questo tool, questo programma sviluppato internamente alla comunità di Manjaro chiamato F-Pacman. Questo tool che all'inizio era pensato soltanto per la gestione di Flatpak, ma con la versione 0.4.0, rilasciata da pochi giorni, gli è stato aggiunto anche il supporto al formato Snap. Quindi tramite questo tool sarà possibile abilitare i vari repository di Flatpak o Snap e installare applicazioni da lì. L'interfaccia è molto semplice, molto scarna, però è efficace. Questo tool sarà disponibile sulle tre edizioni principali di Manjaro, quindi XFSE, KDE e GNOME. La notizia che questa settimana ha fatto molto discutere, che ha scontentato praticamente sia gli utenti di Manjaro, ma anche quelli potenziali, ma anche tutta quanta la comunità Linux, oserei dire, è la decisione da parte del team di Manjaro di utilizzare, a partire dalla prossima versione stabile di Manjaro, Free Office come suite d'ufficio predefinita. Perché la gente non ha presa bene? Perché verrà tolto, non verrà più preinstallato Liber Office, che è un software libero. A suo posto verrà messa questa suite Free Office, che è una suite d'ufficio proprietaria. È sviluppata da una software house tedesca, quindi vicini di stato del team di Manjaro, perché ricordo il team di Manjaro, il fondatore tedesco da cui ho capito, hanno anche gli uffici vicini. Qual è il problema? È appunto, è una suite proprietaria e quindi si toglie un software libero per metterne uno proprietario e questo è contro tutti quanti le basi dei principi del software libero. Questa decisione non è piaciuta praticamente nessuno, come vi stavo dicendo, e non piace nemmeno anche in prospettiva. Allora, loro hanno giustificato col fatto che Free Office offre agli utenti una migliore compatibilità con i formati proprietari Microsoft Office, però questo non è un buon motivo. Non è un buon motivo anche perché l'edizione, quella gratuita di Free Office che verrà preinstallata sulle tre edizioni principali di Manjaro, XFSE, KDE e GNOME, è una versione castrata rispetto alla versione a pagamento che Softmaker produce, si chiama Softmaker Office. All'interno del blog di Marcosbox trovate anche un link dove c'è una comparativa tra le varie versioni. Emerge anche ad esempio che questa suite nella versione gratuita, quella preinstallata su Manjaro, che sarà preinstallata su Manjaro, non ha nemmeno il supporto al salvataggio in documenti ODT, nei formati quelli utilizzati da Libre Office. C'era il supporto praticamente soltanto in lettura, anche dei doc c'era soltanto in lettura, quindi è castrata, offre funzionalità in meno rispetto alla versione completa e comunque offre funzionalità in meno rispetto a Libre Office, che ricordiamo adesso è una suite più completa con tante funzionalità ed è la vera e unica suite d'ufficio alternativa a Microsoft Office. Alcuni hanno giustamente detto se proprio dovete sostituire potevate fare una sostituzione con Libre Office, che è comunque software libero alla fine, però questo non è possibile proprio perché questa decisione da parte del team di Manjaro è anche funzione del fatto che questa collaborazione porterà un supporto economico da parte di questa software house e quindi hanno bisogno di pecunia, come si dice, pecunia no, quindi stateci. Stateci, il team di Manjaro ha risposto in maniera abbastanza stizzita sul forum di Manjaro, sono volate tante critiche, comunque ci tiene a far sapere il team di Manjaro che chi ha preinstallato una versione vecchia di Manjaro, quando ci sarà l'aggiornamento non si ritroverà forzatamente l'aggiornamento a Free Office, non verrà rimosso Libre Office in favore di Free Office, quindi se avete Libre Office continuerà a esserci Libre Office, potete comunque disinstallare Free Office in fase di posto di installazione e installate la suite d'ufficio che preferite e comunque ripeto, l'accordo prevede che Free Office venga utilizzato soltanto per le tre edizioni principali, le edizioni della community potranno decidere quale suite d'ufficio preinstallare. Successivamente a questa discussione che è nata riguardo a Free Office c'è stato un post che io personalmente non ho molto gradito perché sembra un po' una paracurata, una presa per il culo, passatemi il termine, da parte del team di Manjaro che dice non vi piacciono le ultime decisioni di Manjaro, quindi l'inclusione di Snap e l'inclusione di Free Office a posto di Libre Office, sappiate che potete comunque sempre installare Manjaro tramite il tool Manjaro Architect, che è praticamente un tool, è come se fosse una net install, quando lanciate questo tool potete scegliere quali pacchetti installare, quali pacchetti rimuovere e quindi scaricarvi solo quello che vi serve. Vi ripeto, a me non è piaciuto come è stata posta la cosa, però tant'è, così sono i fatti, così è se vi pare, diceva Pirandello. Passiamo adesso alle notizie al mondo di KDE. È stata rilasciata, dopo quasi un anno di sviluppo, la TDOC 0.9, che trovate già nei repository di KDE Neon e delle principali distribuzioni. Questa nuova versione stabile della DOC per KDE porta una serie di innovazioni, miglioramenti per quanto riguarda le impostazioni di sistema che sono state ridisegnate, badge di notifica migliorati, nelle impostazioni di KDE è possibile trovare alcuni report diagnostici per eseguire il debug del layout, correzioni di miglioramenti vari, layout multipli per ogni ambiente, la possibilità di scaricare nuovi stili da KDE Store, quindi per esempio gli layout uniti e quant'altro, ed ha anche una funzionalità che piace a molti, che adesso può cambiare colore in base alla finestra attiva corrente, quindi si adatta al meglio con il sistema. Molti utenti, molti amici utilizzano questo Lattedoc, io non sono un grande estimatore, passato l'effetto wow momentaneo torno sempre il layout tradizionale, però molti sono molto felici di questo nuovo rilascio, di queste nuove funzionalità. La settimana scorsa vi avevo parlato della vagonata di soldi che erano entrati nelle casse della Blender Foundation, questa settimana è stato dato l'annuncio del rilascio stabile di Blender 2.80, la nuova versione del famoso software libero e multiplattaforma di modellazione, rigging, animazione, montaggio video, composizione e rendering di immagini tridimensionali e bidimensionali, credo di aver detto tutto, quello praticamente fa anche il caffè Blender. Tra le principali novità di questa versione troviamo una interfaccia utente ridisegnata che focalizza l'attenzione sul nostro lavoro, un nuovo viewport 3D, render in tempo reale basato sulla fisica, un sistema di disegno e animazione 2D comprito grazie a Grease Pencil e poi grazie a Seekles funzionalità standard del settore come criptomatte, ombreggiatura del volume, vabbè andatevi a leggere tutte quante queste cose nelle note di rilascio, sono molto tecniche, io non utilizzo Blender quindi potrei essere anche la persona, anzi sono la persona meno indicata per descrivervi queste nuove funzionalità, andatevi a leggere le informazioni sul blog di Marcosbox. Se siete su Ubuntu e derivate potete installare fin da subito Blender perché è disponibile in formato Snap, quindi trovate il comando su come installarlo da Snapcraft. Ci tengo anche a sottolineare una cosa, sapete bene che le applicazioni in formato Snap spesso soffrono del bug del cursore del mouse che non si sa perché non viene visualizzato quello corretto e quello di sistema e quant'altro. Blender appartiene alla famiglia di quelli che funzionano e quindi è così come ad esempio GIMP, se installate lo Snap di Blender non avete problemi con l'interfaccia grafica, non avete problemi con il mouse, era giusto per dire, perché io questa cosa onestamente non l'ho mai capita com'è che alcuni programmi funzionano bene, altri invece vanno a ramengo. Ultima notizia della settimana riguarda la data di rilascio della versione stabile di XFCE 4.14 che arriverà a metà agosto. Fino a me c'è una data, sono passati tanti anni dalla precedente versione, l'ultima versione stabile è stata rilasciata nel febbraio del 2015 se non ricordo male, quindi sapete bene che i ragazzi di XFCE sono morti a curare nello sviluppo e non sono mai stati nei razzi nello sviluppo a differenza dei desktop che di fatto offre prestazioni elevate e quindi è sempre piacevole utilizzarlo sia su macchine datate che su macchine moderne. Conosco tantissima gente che è affezionata a XFCE e nonostante abbia cambiato recentemente computer, passando avanti le bestie di computer, continua a preferire XFCE perché predilige le prestazioni, predilige anche il fatto che XFCE è molto personalizzabile. Tra le novità principali, miglioramenti in XFCE 4 session, miglioramenti nel gestore delle finestre, nel compositing, c'è anche un nuovo comportamento per quanto riguarda il posizionamento delle nuove finestre, miglioramenti in tuner, sono stati curati diversi bug tra i quali uno che causava l'utilizzo del 100% della CPU quando la directory genitore non era RGB, quindi questo fastidioso bug è stato corretto. Miglioramenti vari in XFCE 4 panel, quasi tutto è stato portato al GTK3, all'inizio il team aveva preso in considerazione disabilità di supporto GTK2 per impostazioni predefinite per quanto riguarda il XFCE 4 panel, ma è stato ripristinato a causa di problemi con la creazione di documenti in generale, vabbè, usatevi poi a leggere le note di rilascio. Infine è stato anche messo mani al XFCE 4 Power Manager e adesso l'oscuramento dello schermo, legazione di inattività, la sospensione per inattività, salutiamo la persona che ha suonato con il claxon, dicevamo, la sospensione per inattività, adesso viene inibita, cioè viene inibita dalla riproduzione dei video negatorico supporto, se avete, che ne so, state vedendo un video su YouTube con Cramium, non entra più in sospensione, quindi non c'è bisogno di altri strumenti per inibirne la sospensione quando c'è un video a tutto schermo o quando c'è un video di riproduzione. Una patch per parole per supportare questa funzionalità è già in fase di revisione. Altre due notizie, in realtà quella di prima non era l'ultima notizia, sono altre due notizie che vi posto, vi ricordo che, perché mi ero dimenticato di dire all'inizio, da partire da questa settimana i podcast di Marcosbox sono disponibili anche su dispositivi Echo, quindi se avete un Amazon Echo con Alexa, la cassa intelligente, per capirci, potrete attivare la skill di Marcosbox, attualmente la skill è basata sul template del sommario quotidiano, quindi va aggiunta al sommario quotidiano, quando andate a chiedere il sommario quotidiano vi verrà proposta in streaming l'ultima puntata del podcast di Marcosbox. Sto valutando, meglio, sto prima studiando come fare e quindi sto valutando anche poi eventualmente, valuterò eventualmente successivamente se fare la conversione, magari di rilasciare come skill a sé stante, quindi da non inserire nel sommario quotidiano, ma poter lanciare col comando, magari poter ascoltare direttamente, che ne so, la puntata 24, la puntata 12, quello che volete. Vedremo nei prossimi settimane, se ho un po' di tempo durante queste vacanze, da dedicare a capire come programmare questa skill. Se siete pratici, datemi un feedback, datemi una manina, lasciate un commento, ogni aiuto è ben accetto. L'altra notizia, l'ultima notizia, poi vi giuro che vi lascio, riguarda, anche perché sono 17 minuti registrato, mentre vi sto parlando, non è ancora stato dato l'annuncio ufficiale, ma le ISO di Linux Mint 19.2 sono arrivate nei repository, nei mirror di Linux Mint, e quindi la versione stabile è possibile scaricare, Linux Mint 19.2 nelle edizioni Cinnamon, X, FCE e Mate, è possibile scaricare, quindi se sapete, sapete già i link, ve l'ho messo i link all'interno del vecchio post sulla versione beta della 19.2, il mirror è sempre lo stesso, andate lì, scorrirete nella cartella superiore, andate a vedere la versione stabile e trovate i link per poter scaricare la 19.2 in versione stabile. Non ho ancora postato la notizia su Marcosbox, a differenza di altri, proprio perché attendo l'annuncio ufficiale da parte del team di Linux Mint. Bene, con questo ho concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci vediamo la prossima settimana, ci ascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox. Ciao ciao!